Era l'estate del 1995, quando ho cominciato a dipingere soggetti davvero miei. Ero nel pieno di una crisi esistenziale che mi aveva costretto a interrompere i miei studi scientifici all'università. In seguito li ho poi ripresi e portati a termine, ma con ritmi diversi e con una maggiore consapevolezza. La crisi ha portato a galla quello che per anni avevo soffocato, l'arte, il bisogno di esprimersi, di sperimentare e di frequentare un mondo più legato all'emozione e all'indicibile. Da quel momento è cominciato un percorso che non si è più fermato, nemmeno per un istante. Non mi nutrivo semplicemente di arte come negli anni passati, ma finalmente creavo. Non ero più solo un consumatore d'arte, ma ero diventato un creatore. Tra un libro di fisica e uno di chimica, in qualunque situazione mi trovassi, riuscivo sempre a ritagliarmi il tempo per dipingere, per far respirare il lato destro del mio cervello. In quegli anni avevo parecchio da buttare fuori, tutto quello che avevo soffocato nella cantina del mio essere era marcito. Dovevo espellere la spazzatura dal mio animo, la rabbia, l'insoddisfazione, la frustrazione, la tristezza, la paura. C'era di tutto, accumulato per anni e rimasto inespresso. La mia mano, come pittore, non era male e riusciva a rendere questa spazzatura interessante. Nessuno voleva portarsela a casa, quasi nessuno, ma tutti ne erano incuriositi e la guardavano. Le figure che dipingevo erano una vera fotografia di quel caos che mi abitava, che era il caos del mondo in cui tutti viviamo. Deformavo e amplificavo la realtà per mostrare meglio i suoi difetti, così dicevo, per renderli più visibili agli altri. Credevo questo, e forse in parte era anche vero. Ma visto che la realtà è spesso lo specchio del nostro mondo interiore, quella realtà esterna era anche la mia realtà interiore. Il mio io si focalizzava su tutte le brutture del mondo, su tutto quello che non funzionava, senza però avere una soluzione da proporre. Continuavo a vivere in un'atmosfera torbida, e questo era ciò che comunicavo agli altri. Li contaminavo. E quando questo pensiero è diventato chiaro e consapevole, ho avuto un blackout artistico. Ho smesso di esporre le mie opere e mi sono rinchiuso nel mio appartamento per lunghi mesi. Mi sono detto che se non hai nulla di buono da dire, è inutile dirlo per forza. Dire qualcosa di inutile o di ridondante aggiunge solo caos a un mondo già pieno di caos. Avrei detto di nuovo qualcosa se e quando avessi trovato un messaggio degno di essere comunicato. Qualcosa di buono per tutti gli uomini. Al momento dipingevo per me stesso, meditavo e studiavo le antiche tradizioni spirituali. Ero vorace e avevo tempo. Andavo incontro al drago e ai miei demoni personali, cercando di guardarli in faccia, conoscerli e capirli. Si è così prodotto un fenomeno catartico, sia dentro di me che fuori di me, nelle mie opere. Il mio animo ha cominciato a trovare nuove dimensioni, nuovi orizzonti, nuove fonti di ispirazione. Le erbacce erano state estirpate. Ora potevo cominciare a coltivare il giardino. Le antiche tradizioni spirituali sono da allora diventate la mia prima fonte di ispirazione. Nuove forme sono arrivate, nuovi colori, nuovi significati. Ci è voluto un po' per capire che quello che stavo producendo aveva un significato più profondo, lontano dai miei egoismi, dalla mia psiche, dai miei problemi personali. Prima esternavo la realtà negativa che avevo assorbito dopo averla ben contaminata e deformata dalle mie nevrosi. Nevrosi che, dopo tutto, tutti abbiamo, sebbene in forme diverse. In seguito, il mio materiale lo prendevo dall'alto e io mi ponevo come un tramite, un canale per comunicare cose che io non inventavo e io non volevo in alcun modo deformare. Semplici e potenti messaggi di evoluzione che da millenni cercano di risuonare tra molte difficoltà sul nostro pianeta. Non si trattava più di ascoltare i piccoli desideri terreni dell'ego, piuttosto di farsi tramite di un sapere più grande e più alto e certamente più utile all'uomo. Credo profondamente che l'artista debba diventare un ambasciatore di principi più alti di lui. Deve lasciare cadere il suo egoismo, i suoi problemi personali, i suoi gusti personali per mettersi al servizio di una causa più alta e più universale. La tela è come un palcoscenico sul quale l'artista non può entrare. L'artista deve fare il regista e mettere in scena una sceneggiatura universale che non lo riguarda personalmente. L'artista, con la sua personalità, ha il dovere di mettersi da parte e lasciare tutta la scena alla rappresentazione del teatro universale. Grazie a tutti.